Ciao a tutte, stasera vi faccio vedere le ultime cose che ho comprato tra gennaio, febbraio e gli inizi di marzo Allora le ho messe come sempre tutto sul mio tavolo, così ve le faccio vedere di seguito Allora la prima cosa di cui vado orgogliosissima, infatti non vedevo l'ora di farvelo vedere, è l'astuccio di Hello Kitty Che ho comprato a lupi, così si apre qui c'è la cerniera, ho comprato a lupi, questa è la capienza che può avere Un po' cicciotto dentro c'è la gomma piuma e l'ho pagato 7 euro, no, c'era lo 70% di sconto Mi sembra di averlo pagato 3-4 euro, insomma, ecco qua, questa è l'astuccio, era nel reparto cartoleria E me lo sono portata a casa, non so bene che cosa ci metterò dentro, però infatti sta qui a casa Poi da Kiko stanno facendo degli sconti, no, stanno facendo delle promozioni sui mascara e sui correttori Allora io sono famosa, e forse l'avete un po' capito, che quando ci sono le offerte io tendo un po' da cum Compro più cose in offerta e me le tengo da parte Mi sembra di avere l'idea, insomma, di risparmiare un po', piuttosto di comprarle in diverse volte magari a prezzo pieno Preferisco fare scorta, insomma, io faccio così Allora, c'era la promozione La promozione sui correttori, appunto come dicevo C'erano questi e quelli in stick, io ho preso questi, che a me vanno meglio, sono lo numero 01 E questi qua vanno bene con il mio incarnato abbastanza chiaretto Questa qui la scatolina Questa qui la scatolina La luce fa un po' pietà, ma fuori piove e non posso, non riesco a fare altrimenti Poi ho fatto scorta di mascara E questa qui sono tutti e quattro Ma io le ho presi in quattro volte differenti Per non prenderli tutti in un corpo Le ho presi in quattro volte differenti E volevo prendere ancora uno Che mi sembra che sia l'Ultra Tecno Waterproof Mi piaceva, devo andare a vederlo Comunque, questi qua sono quelli senza il packaging 3 e 1, dove è? Allora, adesso al momento sto usando questo Che sì, mi piace molto Vi do la mia opinione, insomma, per quello che ho potuto usare Questo qui, colorato, bello, marrone Mi piaceva un sacco È una mesacciofeca, nel senso che è molto secco Io per usarlo un po' ho dovuto metterlo sopra il termosifone E un po' si scioglie Ma sinceramente se devo metterlo ogni volta sul termosifone Ho potuto tenermelo in tasca al caldo Allora un po' si riprende Ma se vi conviene, insomma Se volete prenderlo non prendetelo Perché secondo me non vale la pena Questi, è vero che costavano 3,90 euro Ma questo marrone fa un po' pietà Questo che sto adorando Infatti volevo prendere la versione No Waterproof E l'Ultra Tec Questo qua mi piace tantissimo al momento Sono ancora alla ricerca del mio mascara della vita Però questo qua mi sta piacendo molto Questo ancora non l'ho aperto Preferisco tenerlo chiuso E questo era Extra Curl Questi qua appunto non so se ve l'ho detto Ma venivano 3,90 euro Sempre parlando di mascara Ho provato a prendere questo qui Della Essence Anche ho preso questo Perché nello stand all'OVS Non c'è mai niente Ho preso questo Niente di che Mi sembra che venga 2,49 euro Mi sembra niente di che Va bene per tutti i giorni C'è la facilità che insomma con lo struccante Viene via subito E quindi questa è la mia scorta di mascara Poi Ah sempre parlando di mascara Vi faccio vedere questi Che forse qualcuna di voi li ha già visti Questi qua erano gli omaggi Che venivano con Elle di Marzo Ed era Così insomma per promuovere Per promuovere scusate Il nuovo mascara di Chanel E questo qui è la versione mini size Che era legata al giornale Costava 3,50 euro Questo qua Infatti non si vede niente Bene insomma Le volume de Chanel Ecco Io ne ho presi 2 Venivano a 3,50 euro Ho detto vabbè Anche questi ancora non li ho usati Ma magari quando vado in viaggio Questa qui è la confezioncina Con lo spieghettino E ne ho presi 2 E viva le scorte Poi ho fatto le scorte Anche di Smalti Perché appunto come vi dicevo Lupin stava svendendo alcune cose E stava facendo al 70% Anche gli smalti Quindi ho preso questi 4 colori Questo qui Più a destra È di Max Factor Ed è Purtroppo in telecamera non viene Però è un Glicine Questo qui che mi sta piacendo Tantissimissimo 7 Day Long Di Deborah Il colore in realtà La telecamera lo sfalsa Perché è un po' più Più verso un lilla La telecamera veramente fa pena In questo caso Poi questi due Che sono di marca Ever Che io non l'avevo mai sentita nominare Però erano un cestone A Lupin E vedevo che alcune ragazze Lo compravano Ho detto vabbè Questi due qua Tra l'altro li ho pagati 1 euro Quindi ho detto vabbè Li provo Tanto 1 euro Non andrò in fallimento I colori mi piacciono tanto Questo qui Sembra blu In realtà È un bel viola Ecco qui Questi sono Le cosine Poi Ah sì Sempre da Senso ho preso Questo qui Che ovviamente Adesso con la luce Non lo vedrete È XXL Shine Il gloss Appunto Che dovrebbe fare E Secondo me Le fa Fa un po' Le labbra Nelle labbra Un po' più Vaporose Insomma Non so Mi sembra Sì Vaporose Insomma Adesso non mi viene la parola Una cosa che io sto Stradorando Ah mamma mia Questa mi si è aperta Vabbè Le faccio vedere Questa qui Questa qui è della Kiko Questa qui non era In offerta Però io mi sono fatta Prendere dalla storia Della penna Non so se riuscite a vedere Vediamo Della penna Con la matita Mamma mia La matita per occhi Con i glitter Questa qui è nera Ed è la numero 200 Se vi capita Di andarla a vedere Nel negozio Magari la vedete meglio Di come la sto facendo Vedere io Che sta facendo un po' Pena questa luce È veramente Veramente bella Questa qua Ha un glitter Ha una lunga tenuta Durata Si stende La punta È morbida Io la uso anche Tutti i giorni Per lavorare Non mi fa lacrimare gli occhi Assolutamente no Che lo struccante Viene via È una buona matita Veniva appunto 4,20 euro Poi Ah sì Vi faccio vedere Questo che è aperto Così lo richiudo Questo qui è un lip balm Che io ho preso Da H&M Che a nessuno piace Perché anche da aperto Si sente il profumo È il sapore di cioccolato Tutti mi dicono Che è un sapore troppo forte Io da golosa Mi piace A me piace un sacco Io insomma me lo metto Ce n'erano di altri gusti Ho preso questo Poi Aiuto Sempre a lupi Ho preso questi due asciugamanini Qua Il 70% di sconti Anche questi Questi qua Sono quelli che li metti nell'acqua E diventano asciugamanini Appunto E lo chiti E delle principesse Come avere più di 30 anni E per niente Insomma Vabbè Sempre a lupi Ho preso Due profumini O de toilette Di Questo qui Che è Forse non riuscito a vedere Ai frutti di bosco E questo Alla vaniglia Questi qua Questa marca qui Project È della Io le vedo sempre a lupi La vedo all'OVS Mi sembrava di averla vista Anche da Coim Perché sono lo stesso gruppo Se non sbaglio Allora Si mettono sulla pelle E dà molto subito L'odore Molto forte Di Acido Non so come spiegarvi Poi E man mano Che rimangono sulla pelle Effettivamente Si sente l'odore Di vaniglia E di Frutti di bosco Quindi Questi qua Si io li promuovo Mi sento di promuoverli Altra cosa che ho preso È questa Questa ci voleva Lo spazio dedicato Questo qui è un contributo Tra l'altro L'ho presa anche Col contributo Di Ella Fashion Nel senso che Io l'ho presa Cioè Io volevo prendere Tantissimo Questa scatola di metallo Che è di H&M Nel reparto bambini Però dicevo Vabbè 7 euro Sì è bella Mi piace Mi piace Mi piace Tra l'altro C'era anche Quella dei puffi C'è quella dei gormiti C'è quella di Angry Birds Però Se lo Hello Kitty Aveva la faccia di Hello Kitty Cioè la forma di Le altre sono tutte quadrate Ovali Rotonde Scusate Insomma Poi ho visto Il video di Ella Fashion Per farvela breve E ho visto Che lei aveva preso Questa scatola Ho detto Allora adesso Cioè Prendo coraggio La prendo anch'io E me la sono presa E per adesso Questa scatolina di metallo Contiene un po' Dei miei Dei miei mascara Voglio dargli un altro uso Sinceramente Però Per ora Sta qua sul mio tavolo Insieme Alla mia tovaglietta E poi ci penserò Ultima cosa E poi ho finito Di stressarvi E' questa qui Questa valigettina Pochettina Baulettino Mi è stato dato Perché sono cliente Ive Rocher Una volta al mese Ho scoperto Che ti arriva a casa Una cartolina Che io di solito Buttavo stupidamente Con la promozione Ti dicono Vieni nel nostro negozio Prendi un prodotto A nostra scelta Ti dicono Se è viso A corpo Il secondo Lo paghi Il 40% Di sconto In più Ti diamo un omaggio Che è quello Che vi farò vedere adesso E questa qui E questa qui si aggiunge Ancora 2,95 euro Ho detto Opla Questo è bello Mi piacciono tantissimo I colori I po' con il fucsia Io stravedo Quindi sono andata da loro Dentro ci ho messo alcune cose Perché l'ho usata Per andare al lavoro E ho preso Questo Che è un tonico Tonico Io non riesco a leggere da qua Illuminante Idratante Ho preso questo E il secondo prodotto L'ho preso Con il 10% Scusate Adesso doi anche i numeri Il 40% di sconto Che è sempre Della stessa Linea Insomma Latte e tonico Ho detto Vabbè li provo E quindi loro Mi hanno dato Ho portato la cartolina Adesso Mi hanno dato in omaggio Questa qui Questa piccola Porta Carte Ah ecco qua Volevo farvi vedere anche questa Questa piccola carte Insomma Dei negozi Sapete Si mettono dentro qui Ed è bella Quindi qua E dentro È fucsia E appunto Con 2,95€ Ti davano anche questo Baulettino qua Che è carino Non è male Ha abbastanza capienza Adesso ve la faccio vedere Scusate Abbastanza capienza Infatti Infatti lo ho usato I primi giorni Per andare al lavoro Perché dovevo portarmi Delle cose Siccome poi tornavo tardi Dovevo portarmi un po' Insomma Di trucchi Stratrucchi E cose Me lo sono portato dietro Poi vedrò Insomma Usare per i viaggi Va bene Magari io sto via Tutto il giorno È comodo E quindi sono stata molto felice Mi hanno dato degli omeggini Che è stato questo È una Ma qua non si vedrà mai più Sì così così Devo ancora vedere effettivamente Che cos'è Ve lo faccio solo vedere così Perché Non ho capito neanche Che cos'è Ah un trattamento da giorno Questo Vediamo un po' Questa è la bustina di Kiko L'avevo dentro Ah no Questa vuole far vedere un'altra cosa No Questa non è Mamma mia Vabbè insomma E questo qua Mi hanno dato Questo qua Il trattamento da giorno E da notte Sempre di questa marca qui Che devo ancora usarli E poi Basta Ah sì Poi sempre da Il brochet L'ultima cosa Ho preso questa matita Che è Stratosferica Il colore che vedete È esattamente quello È questo marrone qui Che io l'ho preso Perché ho pensato Di abbinarlo Al mascara Della Kiko Peccato che il mascara Della Kiko Fa un po' schifetto Però effettivamente Questa matita qui Le prime volte che l'ho usato Non era tanto scrivente Poi ho morbidito Un po' la punta E effettivamente Con gli occhi marroni e verdi Come li ho io Questa matita qua È veramente strepitosa Questa l'ho pagata Tra 1,95 Perché adesso era in offerta Vediamo se ho altro Da farvi vedere Questa versettina Qua No No Niente Insomma Ecco qua Questi sono tutti gli acquistini Che ho fatto In questi due mesi Adesso li metto a posto Adesso che li ho fatti vedere Finalmente riesco a metterveli a posto Non so Se avete commenti Suggerimenti Lasciatemi pure sotto E sarò felice di rispondervi Grazie mille per avermi guardato E ci vediamo la prossima volta Ciao Ciao